ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti ben giornate in questo nuovo video sul mio canale 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 a s m r faro allora oggi sarà un video su parete su di whisper in apple quindi ti invito subito a rilassarti completamente quindi ti invito ti invito ti invito a rilassarti 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 completamente 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 e adesso andarti in un luogo tranquillo dove sa che non verrà disturbato per i prossimi minuti Clifford e nochmal effetto fianzoni rilassarti allora intanto scusatemi la mia strana ma ho appena fatto schiaccare queste mollettine sono le mie mollettine di schiaccare trucco e quindi le ho tenute anche per il video perchè in questo periodo mi hanno tanto tempo per dedicare a tutte le cose che vuoi fare quindi magari devo cercare degli scatasi per risparmiare un po' di tempo infatti mi dispiace tantissimo di aver saltato la programmazione settimanale però sono tornata e vi dico che in questo periodo di esami magari salteranno un po' di programmazioni ma non vi preoccupate perchè dopo appunto gli esami tornerò con nuovi video e magari ve li faccio scegliere proprio a voi questi video vi faccio scegliere magari il tema del video e come volete vederlo ecco per un maggiore relax anche da parte vostra per lo soddisfare un pochino tutti sulle labbra ci le vedete un pochino più lucide non la mia solita però non lo vedete ma ci sono dei brillantini che io adoro i ralleggi della labbra li prendo e li compro solamente per fare video perchè io fuori non riesco a uscire con luce della labbra perchè mi si avvicinano i capelli e poi magari voglio mangiare e bere ed è un problema invece per fare video sono spaziali già guardate questo è di Harry Potter adoro è bellissimo e infatti è il mio luce della labbra preferito del periodo e è molto felino ho preso solamente questo con tutti questi brillantini perchè adoro i brillantini in generale tutto ciò che è glitter ho fatto così e ho sporcato un pochino del rossetto che è in sotto ma è proprio bello 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 infatti mi piace di non utilizzarlo spesso ma veramente mi piace tutto di avere l'effetto poi suggerimento comunque assolutamente che è il primo poi ho i capelli che devo ancora vedere mi piace Low floorboard da Evelyn e otrasse un loro delicious cioè alcune dove fare èainenzza è unントO purtroppo tu che anche avevo pelles resistenza e quindi secondo me basicamente non mi piace di essere due fattura così aspetto a un mio lullatore e il rispetto della Harry Potter vorrei fare la moratura di Harry Potter già di nuovo la moratura quindi per ricominciare dall'epidemi ritoruale dalla camera di segreti poi appricinati a scappare l'ordine della finice sono tutti che in certe volte ho fatto alcuna fatica a ricordarli in ordine e per farli con grande Harry Watch io sono una grande fan di Harry Potter ho anche tutti i libri in me con leggi i giochi di Funko Pop della Kinder io ho un Funko Pop di Hermione che è stata bella nel principiato sacco e mi piacerebbe in futuro acquistare un Funko Pop di Ron Ron, 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 Ron di Ron, 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 Ron perchè non ce l'ho non ce l'ho nemmeno infatti volevo tantissimo Ron, 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 Ron ma purtroppo mi è capitato che non ne faccio pop piccini della città quindi assolutamente lo voglio a tutti i costi magari dopo quando mi faccio l'esame mi faccio un regalino mi faccio un regalino mi faccio un regalino così il mio non è stato solo anche perchè il mio non è un chiuso molto pancini anche ok scusate ma le mie cinghiavano di quella ciò che mi ha venito quando avevo 18 anni ed è stata sola per 5 anni quindi ha bisogno di un suo Ron per farle coppagnia e non potete capire per niente questa sono proprio tosta 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 e il finale sette di sera in accademia per lavorare ai crediti di un film che dobbiamo fare faccio quella sera e questi video li metterò qui privati su youtube per poi farveli vedere anche sul secondo canale e sono molto contenta perchè ho finito mi mancano solamente le presentazioni sia dei crediti per il mio canale per altri video e poi devo solamente dedicare delle piccolette e a fare il mio sito web per favore solamente questo quindi ora sto un pochino andando tutto ovvio nel 16 e ne sono veramente 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 contenta perchè basta basta ho bisogno veramente di una bassa per dovrugare e finisca tutto per dedicarmi di più a me stessa la tesi e perchè la tesi sarà veramente molto 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 importante e ho avuto l'unico il momento di iniziale alla produzione perchè quella tesi è una cosa che mi è sempre piaciuta fare ma che non ho mai fatto un pochino perchè penso che non sarà abbastanza per avere le competenze e di non avere niente insomma di fraccato e io farò una grafica per averle illustrata scritta da me e graficata quindi sarà un bel lavoro molto carino lui è il primo laboratorio con il professore e lui è un mostro dell'illustrazione veramente questo professore è un mostro 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 dell'illustrazione perché ha certi lavori che non avete idea lui lavora principalmente su illustrator ma fa anche pittura digitale ci ha detto prima è tipo wow quindi sono contenta di avere lui come relatore e spero tanto che può venire un buon lavoro e poi 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 comunque c'è un'entienda c'è un'entienda c'è un'entenda c'è qualcosa ad una pellicina vi voglio far vedere delle cosine ora metterò un pochino al tono di voce perché ve lo voglio proprio mostrare vi voglio far vedere delle cosine che mi sono arrivate su amazon tramite la wishlist io ti ringrazio davvero tantissimo ma non so chi sei perché non c'ha il biglietto e io veramente già ti ringrazio tantissimo grazie mille per questi regalini che poi sono capitati in questo periodo giornata che veramente è tutto casino per me e quindi scordare e vedere queste cose mi hanno un attimo fatto ah che bello grazie mille allora avevo messo nella wishlist allora intanto vi dico una premessa la mia wishlist è la wishlist personale quindi io metterò cose a caso perché a parte che non so come si fa ad avere due liste ma mi confondo non lo so e quindi metto tutto lì però voi non siete tenuti ovviamente e per questo io veramente quando mi arrivano dei regalini vi ringrazio immensamente veramente immensamente grazie mille e era una serata stanca sono tornata a casa stanchissima un po' un pochino frustratina e quindi scartare e vedere che potevo farmi un buon caffè perché sono arrivati forse tipo sette di questi pacchetti o sei vabbè tipo quasi cento capsule di questo caffè che è compatibile con la mia macchinetta del caffè meno male finalmente è arrivata Pialetti e questo è cremoso e infatti c'è tutta la schiumina del caffè che io adoro è veramente una coccola io più o meno prendo due caffè al giorno uno la mattina io uno verso pomeriggio e veramente il mio momento caffè è la cosa che forse in questo periodo sto adorando di più con la colazione sono proprio quei momenti di meditazione totale che io mi sento che nessuno mi deve disturbare che devo stare bene con me stessa è una pausa per me sia colazione che momento caffè e questo 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 mi ha veramente migliorata l'umore infatti mi sono fatta subito un caffè appena l'ho aperto e c'era un odore di caffè tost che non avete idea cioè veramente ho appena aperto il bacco una spampa di caffè buonissimo 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 grazie mille grazie 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 poi andando avanti ho trovato un libro che avevo visto dry book haul e wrap up di un po' di mesi fa di una ragazza o anche di alcune ragazze devo essere sicura e quindi questo libro mi aveva incuriosita e poi comunque io mi sono ripromessa che da quando finisco voglio ricominciare a leggere libri ma libri su libri su libri su libri su libri perché io ho sempre adorato leggere quando ero piccola veramente la lettura per me era una valvola di sfogo una via di sfogo e una via di fuga dalla realtà cioè per me la lettura è sempre stata una via di fuga e trovare un buon libro per me è come trovare un compagno di avventure perché appunto mi fa vivere delle avventure anche se solamente con la testa è bello è bello è bellissimo già io la lettura veramente adoro i libri e quando ero più piccola trovo libri fantasy ora ho spaziato con romanzi thriller gialli horror romanzi generali anche dei classici eccetera quindi graphic novel fumetti ora la compo di tutto però quando ero piccola leggevo principalmente fantasy perché era proprio quello che più adoravo poi quindi mi è arrivato questo libro stelle e ottone di The Hitler's Society e anche ora che potevo chiamare le stelle per il nome l'unico nome che volevo pronunciare dal suo quindi una storia romance fantasy poi guardate adoro 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 e vi leggo un po' la trama Ambra pensé che i suoi unici problemi siano l'imminente esame di archeologia persiana e la competizione spietata con il suo odiato rivale accademico Ismael Sacreto ma gli astri hanno altri piani per il suo destino nel giro di una notte scopre che la magia esiste ed è ovunque intorno a lei che gli insegnanti dell'accademia delle arti magiche di Seleria la considerano una minaccia alla loro segretezza e peggio ancora che il brillante mago che sarà costretto a farle da maestro è proprio Ismael in una Venezia affascinante e inedita insieme farò una luce sul misterioso passato di Ambra che capirà di se stessa molto più di quanto aveva mai immaginato e scoprirà che le stelle possono essere crudelle quando le stelle si fanno silenziose possono esserci solo due ragioni o si concedono riposo dal compito di illuminare le notti dell'eternità o ci stanno scegliendo bellissimo questo sarà una sorta di romanzo romance un po' harry potteriano e poi vi farò sapere ci sta anche un segnalibro adoro fare queste illustrazioni e poi ho visto che ce n'era un'altra ebbè guardate questa illustrazione adoro bellissimo già è proprio lo stile che mi piacerà più avere un pochino codico un pochino arnavaux un pochino barocco insomma carino mi piace molto c'è un pochino ci sono un pochino questi stili secondo me con tutti i bronzoli eccetera poi i vestiti mi piace un po' disegnare costumi non so che ve l'ho mai detto quindi bellissimo 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 il libro è molto bello sembra veramente qualcosa di molto è molto 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 bello anche l'illustrazione della prima di Cupertino è finissima e infatti non vedo assolutamente quindi ti ringrazio veramente veramente tanto e mi hai regalato due gioie perché il caffè è una gioia i libri sono una gioia ti ringrazio ancora e spero che ti balleggerai perché voglio ringraziarvi anche a varie diverse grazie 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 ora ti mando dei piccoli, 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 piccoli per una notte a ciòlla per cercare di farli addormentare pre 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 pre, mentre ti auguro una splendida prelaventando la tua negatività e ti auguro una splendida buonanotte e mettiamo un po' di positività quella buonanotte buonanotte spero che tu possa dormire super bene stasera che tu possa bere tanti 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 bei suoi ogni perché te lo merdi te lo merdi, te lo merdi, 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 merdi grazie mille per aver guardato questo video per il tuo relax per me è molto importante e se ti va, se non sei ancora iscritto al canale puoi iscriverti qui sotto attivando la campanella e lasciare un like di supporto grazie mille ora ti auguro una splendida buonanotte 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 buona notte buona notte buona notte buona notte buona notte buonanotte 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 buonanotte